In bocca contro mano il Viale Europa mettendo in allarme una decina di automobilisti e quando viene fermata da una pattuglia della volante, avvertita da decine di telefonate al 113, si giustifica dicendo che stava andando a fare la visita per il rinnovo della patente. La donna alla guida in realtà è una arzilla novantenne con tanto di patente scaduta, gli agenti non possono far altro che sequestrare l'auto alla spericolata nonnina la quale viene rispedita a casa in taxi con la speranza che naturalmente non gli venga in mente di rimettersi alla guida.